L'autocon, c'è da quai ma, ho zin pazzi autà Il destino della New P sarà segnato dall'importante partita di oggi contro la St. Francis Andate in campo e fategli vedere chi siete È impossibile battere la St. Francis, lo sappiamo Non vi sopporto quando piangete come dei lattanti Avete accettato la sfida e ora dovete vincere Basta! Ma insomma, che cos'è tutto questo pezzo? Credevo che ti fossi fatto prendere dalla paura anche tu Ti sbagli di grosso, non so neanche che cos'è la paura Salve, sono Oliver Atton, piacere di conoscere Lo so meglio di te, maestrina Sono stato chiaro? Dovremmo segnare a tutti i costi Serve impegno! La cosa fondamentale in questa partita sarà tenere alta la squadra e battere almeno una volta Benji Price Benji Price? Proprio lui, il portiere che ha subito meno gol nel campionato nazionale Un vero campione Non credevo che avremmo avuto di fronte un portiere così bravo Ogni volta che lo incontriamo si prende gioco di noi, non è giusto? I ragazzini non sanno nemmeno che significa giocare a calcio Mi raccomando, questo campo deve rimanere a noi per far allenare la nostra squadra Preparati Alan, oggi giocherai tu Va bene Gli concederemo la nostra ora di allenamento Allenatevi nei tiri più possibile D'accordo? Sì, su di noi Sarà fatto Muovetevi, non fateci perdere troppo tempo Che cosa hai detto? Sta calmo, buono Bruce Ma se invece non riuscirete a farci neanche un gol Non potrete più avvicinarvi perché il campo sarà tutto nostro Accetta la sfida, altro che un gol ve ne faremo almeno dieci Basta parlare, iniziamo a giocare Allora, i patti sono chiari Se voi riuscirete a farci anche solo un gol Prenderete il campo Forza, mettetecela tutta, ragazzi Tua Passa A me, a me Coglieteli, questa non me la faccio scappare Ancora Accidenti Mi dispiace Arthur, appena l'arbitro fischia, devi passarla a me Sì, certo No, ti avevo detto di passarla a me Un altro gol Che gol, ragazzi Non entusiasmarti per aver segnato un gol contro la Nupi Non entusiasmarti Non entusiasmarti per aver segnato un gol Dove